Ciao a tutti i nostri lettori di Legnano News, oggi siamo insieme a Nuccia Berra, candidata a sindaco di Centrodestra Unito, cioè Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nuccia era coordinatrice di Forza Italia qui a Cerro Maggiore, quindi ha dell'esperienza politica, ma è la prima volta che si presenta come candidata a sindaco a Cerro Maggiore. Ci vuoi parlare un po' di te? Ci vuoi presentare la tua squadra? Sicuramente, buongiorno a tutti, a tutti i cittadini di Cerro e Cantalupo. Sono Nuccia Berra, ho 59 anni, sono sposata, ho due figli di 29 e 24 anni e sono farmacista qui a Cerro da ormai 31 anni. Dunque, sono una persona molto trasparente, molto sincera e mi sono messa in gioco con una squadra, a mio parere, molto valida e molto competitiva. Siamo un centrodestra unito e qui sta la nostra forza. Ho a cuore il bene di questo paese che ho visto praticamente negli anni diventare sempre meno bello, per non dire brutto dai. E quindi la mia voglia era quella di mettermi in gioco, di lavorare sodo, con la sola voglia di fare qualcosa per loro, per i cittadini. Nel nostro programma abbiamo dato delle priorità, una delle quali sicuramente è la sicurezza, perché a mio parere, se tu lavori o operi in un paese in cui la sicurezza viene fatta valere, sicuramente poi tutto il resto viene più facile da attuare. E quindi miglioreremo sicuramente videosorveglianza attraverso la rimessa in funzione delle videocamere, che a quanto mi sembra non siano funzionanti. Un'altra cosa su cui puntiamo è l'avere dei vigili della polizia locale a piedi, nel senso intendo vedere per il paese delle forze di polizia che girano per il paese. E questo garantisce sicuramente sicurezza, perché per qualunque cittadino, qualunque problema, se tu hai come riferimento il poter incontrare un vigile a piedi, in bicicletta, comunque un vigile sul territorio, è sicuramente una fonte di sicurezza maggiore. Per cui punteremo sicuramente come prima cosa su questo. Saremo del tutto trasparenti e questo vorrà dire che quando, se dovessimo vincere e andare noi a salvaguardare i diritti dei cittadini, renderemo soprattutto noto ai cittadini quello che troveremo, quello che faremo e vorrei tanto essere in grado di poter avere un rapporto diretto con i cittadini. Noi ringraziamo Nuccia Berra e vi ricordiamo le lezioni a Cerro Maggiore saranno domenica 10 giugno. Ciao!